Conoscete Chernobyl? C'è stata la catastrofe nucleare? L'hanno evacuata la notte stessa. Dal creatore di Paranormal Activity. Ora è sicuro? Ho il contatore Geiger per controllare i livelli di radiazioni. Sconvolgente. Avete sentito? Sicuro che ci siamo solo noi? Questo è il rumore della paura. Andiamo, andiamo! Chernobyl Diaries. La mutazione. Chi sei? Da giugno al cinema. Grazie.